ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'impero delle tenebre quest'oggi voglio fare l'unboxing di un model kit dedicato a star wars della bandai perché appunto una di quelle case produttrici che ha fatto un bel po di model kit su star wars che però sono principalmente relegati al mercato giapponese per via di diritti quindi uscito nel 2016 questo kylo ren in scala 1 12 si trova anche nei nostri negozi ma non è così facile da reperire come model kit e action figure invece di marchi occidentali che sono importati sempre su licenza perché comunque anche questa è licenza ufficiale della lucasfilm e della disney però non appunto è molto diffusa dalle nostre parti è un peccato perché questa linea come accadeva già ai figure eyes standard che in realtà sono a mio avviso un'evoluzione di questo tipo di brand hanno dei dettagli fantastici infatti per quanto kylo ren non sia uno dei miei personaggi preferiti anzi a tutti diciamo ha fatto storcere il naso per così dire è un bellissimo model kit con alcune cose davvero degne di nota come questo mantello gommoso con appunto la cosa strappata che dà un senso decisamente notevole come effetto invece di un copricapo rigido molte appunto action figure della asbro sono semplicemente un blocco plastica con questo mantello sagomato col cappuccio che sembra un frate e invece quest'action figure della bandai o meglio questo model kit degno di un action figure perché comunque in scala 1.12 è notevolmente grosso e dettagliato vanta tutte queste parti morbide in gomma per il mantello e il gonnellino che lo rendono davvero 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 interessante è un kit comunque semplice da realizzare sia per esperti che vogliono appunto farci un po di rifiniture extra ma soprattutto per neofiti perché come tutti i model kit della bandai diciamo di nuova generazione hanno comunque semplicemente dell'articolazione con le polycap per renderle più morbide e sono ad incastro quindi non hanno bisogno di colla di rifiniture particolari basta avere delle buone pinze per tagliare bene le parti una un cutter da modellismo giusto per rifinire un po diciamo le parti in eccesso e poi per il resto la qualità proprio delle plastiche è notevole così come i dettagli anche qua appunto del vestito con tutta la trama è davvero ottima non è semplicemente un model kit liscio come può essere un gompla che effettivamente se non prendi quelle di alto livello sono molto plasticosi qua viene fuori una bella figure con dettagli notevoli anche qua la spada laser non è liscia ma ha tutta quella sensazione per così dire di ruvido chiamiamolo così perché infatti quella di Kylo Ren non è bella liscia come quelle classiche ma nel risveglio della forza si vedeva appunto questa spada croce infatti ci sono anche le parti laterali che ha comunque un certo fascino anche qui bisogna ammettere che non è piaciuta a molti però è discretamente valida a livello estetico è un personaggio che a me non è dispiaciuto è il suo fare il buono il cattivo cambiare parte opinione praticamente dieci volte a film che mi dà fastidio però a livello di design anche del personaggio è un buon sit ed è effettivamente un model kit di discreta fattura con dei dettagli validi che grazie anche al fatto che sono praticamente tutte plastiche nere non necessita come dicevo appunto di rifiniture particolari perché il personaggio ha quel colore l'unica cosa un po' particolare sono qua mettiamo le giuste le decal adesive ad acqua da applicare per l'elmo infatti non ci sono dettagli particolari per l'elmetto vediamolo in dettaglio a questa parte si può volendo andare a con un marker a inspessire le linee oppure si possono applicare appunto queste decal per dargli anche un senso di metallizzato più notevole perché è un po' in questo caso spenta questa plastica metallizzata però non sono ancora sicuro di come andare a costruirlo come tutti i modelli di questa linea c'è la sua basetta dedicata per metterlo in esposizione e il manuale in questo caso è completamente in giapponese infatti come dicevo è un modello del 2016 quindi un po' più vecchiotto degli altri nonostante sia su un personaggio della nuova trilogia dell'ultima della trilogia sequel però è effettivamente stato realizzato prima di modelli classici di personaggi appunto che abbiamo visto in altri video unboxing e quindi le istruzioni sono completamente in giapponese ma come potete vedere è comunque molto semplice da realizzare se avete esperienza appunto con i figurais standard di Dragon Ball o di Kamen Rider o Ultraman questo è un gioco da ragazzi è molto semplice è molto funzionale l'unica cosa per cui bisogna stare un po' attenti appunto è montare bene il gonnellino mobile però per il resto bisogna dire che non è affatto male anche qui per la spada laser bisogna stare un attimino attenti a come metterla perché non bisogna tagliare tutte le parti ma rimane un blocco unico per così dire la croce e poi per il resto volendo oltre alla sua basetta si può utilizzare un action base a parte con il suo braccetto per tenerlo in sospensione fare qualche action pose un po' più dinamica che però appunto ha un difetto un difetto abbastanza semplice ovvero il personaggio in sé ha una mobilità discreta perché il gonnellino appunto è gommoso quindi rimane mobile però non è certamente un campione di stabilità perciò per fare delle pose un pochettino più elaborate è consigliato avere una basetta vendita a parte comunque il suo effetto scenico appunto lo fa ha diverse mani per avere anche appunto delle pose più dinamiche la spada può essere accesa oppure spenta messa al fianco e come dicevo non necessita di particolari rifiniture in quanto è appunto un personaggio ottimamente realizzato che grazie alla colorazione in nero non necessita di colori o altre rifiniture post realizzazione quindi realizzato effettivamente a secco visto anche che deve essere una sorta di vestito e non un'armatura questo tessuto plasticoso comunque con la trama come dicevo appunto della maglia, del vestito rende molto bene non ha bisogno di altre lavorazioni perciò può essere veramente realizzato da chiunque se amate Star Wars se vi è comunque piaciuto come personaggio Kylo Ren questa è la versione del Risveglio della Forza che è appunto la prima versione del personaggio ne esiste anche appunto una seconda realizzata per l'ultimo film che ha la maschera rovinata e qualche dettaglio diverso per quanto riguarda appunto sia il vestito che le articolazioni comunque è un ottimo model kit che io vi consiglio se volete poi vederne anche la realizzazione seguite il blog imperodeletenebre.blogspot.com così potrete vedere l'unboxing e la realizzazione di questo model kit che a mio avviso è davvero di discreta fattura perciò io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video